C'è un obiettivo condiviso, quello di tutelare la salute e la città di Battipaglia, sottoscritta un'intesa questa mattina a Palazzo Sant'Agostino tra il presidente della provincia Michele Estrianese e la sindaca di Battipaglia Cecilia Francese. Mentre continuava il presidio all'ex stir di Battipaglia, stamani è stato sottoscritto un atto di indirizzo tra il comune di Battipaglia, la provincia di Salerno e l'ente d'ambito di Salerno per una moratoria di vieto di nuovi insediamenti per la gestione di qualsiasi tipo di rifiuti sul territorio. Un primo passo tiepido ha dichiarato sin da subito il primo cittadino di Battipaglia per far riconoscere sul piano provinciale regionale che la città della Piana del Sele ha vocazione agricola e quindi non potrà, secondo la normativa vigente in materia, essere più oggetto di nuovi insediamenti o ampliamenti di quelli esistenti. Successivamente questo atto, nella giornata di lunedì 16 settembre, verrà presentato alla conferenza dei capigruppo del Consiglio provinciale che provvederanno ad inserire la ratifica del provvedimento nell'ordine del giorno di un Consiglio straordinario. L'importante, abbiamo fatto un po' tardi un fatto di imprevisto, però abbiamo lavorato al fine con l'impegno che hanno preso di mettere in atto l'adozione di questa delibera, la leggo integralmente, così anche i cittadini a Battipaglia si tranquillizzano, l'adozione della proposta di delibera, di moratoria, di vieta, di autorizzazione e o ampliamenti di nuovi impianti di trattamento, rifiuti per saturazione del territorio di Battipaglia, come già avevamo anche deliberato. Noi avevamo chiesto come amministrazione, come ricordava prima il Presidente. Quindi voglio dire, l'impegno è raggiunto, il 16 alla convocazione del Consiglio provinciale. Ora andremo a Battipaglia a portare questo documento sottoscritto sia dal dottore Dinesta che dal Presidente Strianese e vorrevo tranquillizzare le persone, soprattutto ora tanta calma, perché le porte dello Stir, come da impegno noi abbiamo mantenuto il nostro impegno, chiedo ai cittadini di fare in modo che si sappia che anche la città di Battipaglia mantiene l'impegno e facciamo in modo che i camion carichi di rifiuti, soprattutto ci sono degli ospedali che hanno tanti rifiuti da sversare e c'è anche l'attesa per l'uscita di quelli nuovi, ci hanno anche rassicurato che lo Stir sarà svuotato quanto prima possibile, prima del previsto. Quindi cittadini calma, il risultato è raggiunto, mai più rifiuti, ulteriori rifiuti, industrie di rifiuto sul nostro territorio e o ampliamente, era questo che è il primo passo che volevamo, ora rispettiamo anche noi il patto, vado a Battipaglia, parliamo con i copitati, con i cittadini. Grazie.